Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la società Milano Ristorazione hanno chiesto scusa oggi per i tramezzini serviti ieri nelle mense scolastiche al posto del pranzo. Raccolta di firme dei genitori per chiedere uno sconto nel pagamento della mensa relativa alle prossime rette. È partita male la campagna di vaccinazione antinfluenzale a Milano. Molti medici di famiglia non hanno ancora ricevuto le dosi da somministrare ai pazienti. L'assessore regionale Gallera assicura entro fine settimana la situazione migliorerà. I consiglieri comunali milanesi di opposizione hanno chiesto di convocare in Commissione Sicurezza il comandante della polizia locale Marco Ciacci per sapere che cosa è successo dopo l'incidente stradale che ha coinvolto la figlia degli ex PM Nobili e Boccassini. La donna, senza toccarlo, ha provocato in scooter la caduta mortale di un pedone. Ottant'anni fa l'arcivescovo di Milano, Cardinale Schuster, pronunciò l'omelia contro le leggi razziali. Con un servizio, riviviamo quella pagina di storia poco nota. Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Come avete sentito dai titoli del sommario, dopo le proteste dei genitori, sono giunte oggi le scuse del sindaco di Milano Giuseppe Sala e della società Milano Ristorazione per i tramezzini serviti ieri nelle mense scolastiche milanesi ai bambini al posto del solito pranzo. Il tutto a causa di un'assemblea sindacale dei dipendenti della società Milano Ristorazione. Sul web è intanto partita una raccolta di firme per chiedere uno sconto nel pagamento della mensa relativo alle prossime rette. Sentiamo Alberto Carreras. Causa sciopero a Milano Ristorazione e ai bambini delle scuole sono stati serviti tramezzini al posto del solito pasto. Molte mamme mi hanno segnalato che in occasione di un'assemblea sindacale del personale di Milano Ristorazione i loro bimbi in mensa hanno ricevuto un tramezzino di bassissima qualità. Hanno ragione, è una cosa inaccettabile. Al di là dello scusarmi, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ho chiesto agli assessori Cristina Tagliani e Laura Galimberti di convocare aziende e sindacati per verificare quello che è successo ed evitare che una situazione del genere abbia a ripetersi. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto con un post a cercare di sedare le polemiche che da 24 ore circolano sulle pagine Facebook di singoli o di gruppi di genitori milanesi. Tutti a postare le foto di un tramezzino con il pan carré, con una fetta di formaggio e tre mezzi pomodorini. Il pranzo proposto a centinaia di bambini milanesi a causa dell'agitazione di Milano Ristorazione. La società ha chiesto scusa a tutti per aver recato disagi ieri e oggi a genitori, ragazzi e comunità scolastica. I due tramezzini con il budino si sono rivelati purtroppo un pasto non all'altezza della consuetudine, ma si è trattato di un'iniziativa per tamponare una situazione di immediata difficoltà. Intanto è partita una petizione online dei genitori al sindaco di Milano Giuseppe Sala per chiedergli uno sconto del 5% sul servizio di mensa per il prossimo mese e soprattutto, nel caso si ripeta uno sciopero degli addetti alla ristorazione, la possibilità di far portare ai bambini il cibo da casa. Alla petizione hanno già aderito oltre 6.000 persone. È partita male la campagna di vaccinazione anti-influenzale a Milano. Scarseggiano i vaccini. Molti medici di famiglia non hanno ancora ricevuto le dosi da somministrare ai pazienti, mentre altri ne hanno ricevuto in numero inferiore alle attese. L'assessore regionale Gallera comunque rassicura che entro fine settimana la situazione migliorerà. Le scorte sono inferiori alle richieste. Le vaccinazioni anti-influenzali sono entrate in crisi a Milano. La stagione invernale è ormai alle porte. La campagna per la vaccinazione è partita, ma molti medici di base hanno ricevuto una scarsa dotazione di vaccini. La denuncia arriva proprio dai medici di famiglia. Un problema che riguarda il 20% delle forniture, sostiene l'assessore regionale alla salute Giulio Gallera. Il responsabile della sanità lombarda è certo che entro fine settimana la situazione dovrebbe essere risolta. Alcuni medici di base non hanno nemmeno ricevuto le dosi e sono stati costretti a chiederle in prestito ad altri colleghi. I rifornimenti promessi dalla TS, azienda per la tutela della salute, scarseggiano o sono in ritardo. Quest'anno, contrariamente ad altri anni, molti milanesi, soprattutto anziani sopra i 65 anni, si sono presentati subito per farsi somministrare il vaccino e le strutture sono andate in crisi. La vaccinazione contro l'influenza è da sempre consigliata agli anziani, ai malati cronici, alle donne in gravidanza e ai soggetti cosiddetti a rischio. Il traguardo ideale sarebbe quello di coprire il 90% della fascia debole, ma un buon risultato è considerato anche il 75%. In Lombardia siamo al 50%. Nel 2017 sono state somministrate 1.212.000 dosi di vaccino in tutta la regione. Purtroppo la distribuzione è stata lacunosa. Medici che hanno ricevuto 100 dosi quando ne occorrerebbero tre volte di più, altri che non hanno ricevuto nulla. Dalla regione promettono di correre ai ripari. Quest'anno il vaccino è quadrivalente e ha una copertura migliore di quella dello scorso anno. Il picco influenzale, secondo gli esperti, è previsto a Natale. Sono oltre 26.000 le famiglie che in Lombardia ricevono il reddito di inclusione. Si tratta di 73.800 persone. I poveri sono in aumento nella nostra regione. L'alleanza contro la povertà chiede che la Lombardia dia il via all'istituzione di una cabina di regia per meglio organizzare risorse e interventi. Aumentano i poveri in Lombardia. L'alleanza contro la povertà ha chiesto alla regione di attivare al più presto quella cabina di regia che era già prevista nel piano regionale, che si occupa di dare contrasto a questa condizione sociale. I dati fotografano una situazione non felice. Sono 26.446 le famiglie Lombarde che hanno, da gennaio 2018, iniziato a beneficiare del reddito di inclusione, che eroga mediamente 266 euro al mese. Si tratta di 73.867 persone destinatarie. Proprio in questi giorni il Ministero del Lavoro ha dato il via libera al trasferimento verso la Lombardia di 31.715.000 euro per sostenere gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. E dunque l'alleanza contro la povertà è convinta che sia il momento giusto per far partire questa cabina di regia, che dovrebbe meglio indirizzare i fondi e dovrebbe favorire l'integrazione tra politiche nazionali e quelle regionali. L'alleanza contro la povertà è costituita da 21, tra associazioni, sindacati, enti e realtà locali, tra cui l'Anci, l'Azione Cattolica, la Caritas, Action Aid, CGL, CISL, Will e altre realtà del terzo settore. Ad oggi il Ministero del Lavoro ha sbloccato e trasferito le risorse, oltre 31 milioni di euro, agli ambiti territoriali per promuovere e favorire misure politiche di contrasto alla vulnerabilità e di sostegno alle persone, alle famiglie in grave deprivazione economica e sociale. Riteniamo quindi quanto più opportuno e necessario attivare meccanismi di confronto per aiutare i territori, favorendo l'utilizzo appropriato delle risorse attraverso indirizzi che vanno appunto a dare risposte concrete alle famiglie in difficoltà a partire dalle famiglie con minore. La pagina della cronaca, apriamo con una web, Milano Repubblica, il sito del quotidiano Repubblica. A Milano c'è un altro indagato per la morte dell'operaio di Ciottena al Porteno. La procura è scritta, il collega Di Andrea Masi, l'operaio morto sbattendo la testa mentre era su un elevatore che guidava il mezzo meccanico. Avevo bevuto per tutto il giorno tequila, così ha provato a giustificarsi prima di scoppiare a piangere davanti agli investigatori, il 22enne Salvadoregno, Hernandez Aguilar, arrestato dalla polizia ieri sera, per avere ucciso lunedì alle 18 colpendolo al volto con una bicicletta 5-6 volti un altro senza fissa dimora, il tunisino Tareke Lerosni, 41 anni, che bivaccava con lui e altri in zona arco della pace a Miano. Il PM di turno, Furno, nelle prossime ore interrogerà il ragazzo e ha già chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere e l'udienza davanti al jeep si terrà domani. Tra i due, stando a quanto ricostruito, è nata una lite per futili motivi e la presenza di altri due senza tetto e a un certo punto il Salvadoregno ha preso a calci il tunisino che è finito a terra e poi l'ha colpito almeno 5 volte al volto scagliandogli contro la sua bicicletta che aveva anche un grosso lucchetto attaccato al telaio. E sono stati condannati a tre anni e a quattro mesi, a due anni e otto mesi reclusione. Due giovani, li vedrete dopo, che lo scorso 13 maggio a Milano, dopo aver alzato eccessivamente il gomito, al termine di una serataccia aggredirono a calci e pugni due dipendenti dell'azienda dei trasporti milanesi che erano intervenuti quando un loro collega autista di un autobus si era dovuto fermare a causa di atti vandalici combiuti dai due e da un loro amico minorenne. Lo ha deciso al termine del processo abbreviato il giudice per l'udienza preliminare Sofia Fioretta a seguito delle indagini della polizia coordinate dal PM Stefano Amendola che lo scorso luglio avevano portato all'arresto dei due ventenni difese dal legale Robert Ranieri. In particolare il giudice ha condannato Leon Wiesem Moabend Tuil 25 anni a 3 anni e 4 mesi e Lorenzo Pierre Lablash 22 anni a 2 anni e 8 mesi per lesioni gravi, interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricati di pubblico servizi. I due cusini italiani di origine marocchina erano stati arrestati perché erano stati ripresi nelle immagini delle telecamere, come avete visto, di Piazzale Cadorna. Un pusher di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per spaccio e detenzione di droga e possesso di un'arma clandestina una pistola a salve modificata in modo da poter sparare. Salvatore Romano, che ha diversi precedenti, la nascondeva nel suo zainetto. Gli investigatori della squadra mobile lo hanno fermato ieri pomeriggio nel parchetto di Via Giacosa vicino a Via Le Monza, subito dopo aver assistito alla vendita di 3 grammi di hashish. In tasca aveva altri 15 grammi della sesta sostanza e nella borsa custodiva la scacciacani modificata. Notte di paura a Vanzaghello, nell'Interland milanese. Lo vedete per l'incendio divampato all'interno di un'officina meccanica in Corso Italia. Sul posto sono intervenuti i vicini del fuoco di Milano che sono stati impegnati fino all'alba nello spegnimento del rogo, le cui fiamme erano visibili in tutta la zona circostante. Non si sono registrati feriti dai primi accertamenti. Intanto sembra che l'incendio sia partito da un camion in fase di riparazione. Torniamo a Milano. Il comandante della polizia locale Marco Ciacci venga in Commissione Sicurezza a spiegare che cosa è successo nel corso dell'incidente che ha coinvolto la figlia degli ex pubblici ministeri Alberto Nobili e Ilda Boccassini. Ciacci deve spiegare. Se risponde alla Procura della Repubblica o al Comune di Milano. L'opposizione in comune, dal Movimento 5 Stelle al popolare Matteo Forte fino alla Lega, vanno all'attacco durante la seduta del Consiglio Comunale. Nel Mirino finisce un incidente dello scorso 3 ottobre in Viale Montenero dove Alice Nobili, figlia degli ex PM sovracitati, ha provocato in scooter la caduta mortale di un pedone, il 61L Luca Voltolina, pur senza toccarlo direttamente. Ed è stata quindi indagata. Secondo il sindacato USB, il giorno dell'incidente, Ciacci sarebbe intervenuto sul posto prima delle pattuglie. Una presenza non casuale, sempre per USB e anche per il Comitato Pro Barbato. Siccome è risaputo che Ciacci ha collaborato per anni con la Boccassini, quando l'attuale numero uno dei Ghisa dirigeva la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, la conclusione è che Ciacci avrebbe messo in atto un comportamento contrario a quanto indicato dal regolamento dei dipendenti pubblici. Insomma, sarebbe subito intervenuto per tutelare la figlia della Boccassini usando in maniera impropria le pattuglie giunte sul posto. Il condizionale resta d'obbligo, naturalmente, ma il caso, ieri pomeriggio, è sbarcato in Consiglio Comunale. Sulla questione oggi abbiamo chiesto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, se esiste e c'è un caso Ciacci. Sentiamo, che cosa ha risposto? No, non c'è un caso Ciacci. Ciacci ovviamente interpreta il suo ruolo, l'ha sempre fatto al meglio. Inoltre che ci nascondiamo, queste sono polemiche montate adatte per prestabilizzare la fiducia in Ciacci. Il punto è che la mia fiducia in Ciacci è più che completa, per cui andiamo avanti con estrema tranquillità. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di farsi interrogare nel processo sul maxi appalto per la piastra dei servizi di Expo, che oggi ha preso il via a Milano e nel quale è imputato per falso con l'ex manager della società che ha gestito l'esposizione Angelo Paris a chiedere l'esame di Sala ai tempi commissario straordinario di Expo, è stato stamattina uno dei suoi difensori, l'avvocato Salvatore Scuto. 25 letti ammassati in un quadrilocale dalle pessime condizioni igieniche che ospitava i migrati è quanto hanno trovato gli agenti del nucleo reati immobiliari della polizia locale di Milano quando sono entrati in un appartamento di via Imbonati, in zona d'Ergano. Il proprietario, un cinese, è stato denunciato. Le indagini sono partite dopo una segnalazione arrivata dall'amministratore dell'immobile che aveva ricevuto la mentene dagli altri inquilini. Nel quadrilocale i letti a Castello erano l'uno di fianco all'altro, sistemati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile. Ed è di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus Aptm ieri sera a Milano all'incrocio tra via Forze Armate e via Alessio Olivieri. Intorno alle 23, l'autobus della linea 49 proveniente da via Olivieri si è scontrato con una piccola utilitaria mentre svoltava a sinistra per imbloccare via delle Forze Armate. L'auto guidata da una ragazza proveniva da via Filippo Maria Beltrami. Per il momento non è ancora chiaro chi abbia mancato la precedenza. Lo schianto è stato molto brusco, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sono intervenute sul posto tre ambulanze dell'azienda regionale Emergenza Urgenza e Vigili del Fuoco che hanno liberato il conducente del bus e un passeggero dato che lo scontro ha danneggiato proprio la parte frontale e laterale del bus e quindi le porte erano bloccate. Tutti feriti sono stati poi trasportati all'ospedale San Carlo in codice verde. Si tratta di un 44enne autista del bus e tre donne di 48, 24 e 20 anni. Le ultime due viaggiavano sulla vettura coinvolta nell'incidente. E ha fatto tappa in Cisle Lombardia oggi il camper della salute, campagna di prevenzione cardiovascolare straordinaria lanciata da Sanarti, il fondo sanitario integrativo dei lavoratori e dei titolari di aziende artigiane costituito dai sindacati confederali, confertigianato, CNA, CLAI e Casa Artigiani. In Lombardia sono oltre 150 mila gli iscritti al fondo. Vediamo. È una campagna di prevenzione cardiovascolare rivolta agli iscritti che è accessibile attraverso il camper, prendendo appuntamenti per le visite nelle singole aziende oppure anche attraverso i centri convenzionati con Sanarti presenti in tutto il territorio regionale. Sanarti svolge questa campagna di prevenzione a favore dei lavoratori artigiani per tutelare la salute con iniziative di prevenzione, in particolare sul versante della prevenzione cardiovascolare e successivamente con iniziative rivolte alla prevenzione dermatologica. Il camper è iniziato a girare nella nostra regione da un mese e proseguirà per tutto il corso del 2019 a visitare i territori della regione Lombardia. Ottant'anni fa, il 13 novembre 1938, il cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, all'epoca pronunciò la famosa omeria contro le leggi razziali, definite un'eresia. Un tentativo estremo, con ogni probabilità voluto da Papa Pio XI, abbiamo ricostruito quella pagina di storia, oggi largamente poco nota. Anna Maria Braccini. È nata all'estero e serpeggia un po' ovunque una specie di eresia. Comincia così una delle omelie forse più famose tra tutte quelle pronunciate nel Duomo di Milano. Era il 13 novembre 1938, prima domenica dell'Avvento Ambrosiano, esattamente ottant'anni fa, e la voce era quella, esile ma decisa, dell'arcivescovo Alfredo, il defosso Schuster. L'eresia poi era davvero un serpente velenoso e libero in molte parti di Europa, il razzismo. Un'idra inarrestabile, come venne ancora definita, che di lì a soli quattro giorni avrebbe avuto un'altra testa nel nostro paese, dove il 17 novembre il regio decreto legge numero 1728 declassava quasi 50.000 ebrei italiani a cittadini di serie B. Lo stesso Duce Furente, che aveva chiesto spiegazioni al federale di Milano, Rino Parenti, forse aveva capito e pensato quello che oggi è un convincimento storico certo, ossia che una predicazione tanto grave non poteva che essere stata concordata con Roma. È in tale più ampio contesto che infatti si inserisce che aveva valutata l'omelia del cardinale. E poi c'è la stampa, i giornalisti. All'Italia, giornale cattolico, non sarà infatti risparmiata la rabbia fascista, a cui risponderà lo stesso più un decimo. Il braccio di ferro durerà a lungo e costerà il posto allo stesso direttore del giornale, Sante Maggi. Schuster, che aveva aperto la battaglia nella sua agenda privata del 1938, tuttora inedita, scriverà, al giorno 13 novembre, una parola sola, di suo pugno, predica. Come sappiamo non servì. E forse si può ricordare, al di là di una pretesa autogiustificazione da italiani brava gente, che sono rintracciabili in quella sciagurata legislazione, le basi della futura deportazione degli ebrei del nostro paese. Per i milanesi, la partenza fu da binario 21 della stazione centrale, che in linea d'aria dista nemmeno un chilometro dal Duomo. Giù le mani dall'informazione con questo slogan. si è tenuto anche a Milano, come in diverse altre città d'Italia, il flash mob promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa, organizzato nel capologo lombardo dall'Associazione Lombarda dei giornalisti. Lo vedete. A Milano, appuntamento davanti alla prefettura, in via Vivaio, dove un centinaio di giornalisti, con cartelli e striscioni, hanno manifestato in difesa della libertà di stampa contro gli attacchi alla categoria da parte del governo, nella persona del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luisi De Maio, e dell'esponente del Movimento 5 Stelle, Di Battista. Queste le immagini di oggi, del flash mob, dei giornalisti, chiamati con epitoti offensivi, l'altro giorno, da Di Maio e da Di Battista. Era l'ultima notizia, questa nel nostro telegiornale, che speriamo di non dover più dare, ovviamente. La prossima, appuntamento, dopo la sigla, le presioni del tempo, è con Michele Marchetti, per Nova Stadio TG, in 5 minuti, tutte le news sportive della giornata, le più importanti, a seguire ovviamente, l'approfondimento, con Nova Stadio Sprint, sempre con Michele Marchetti e i suoi ospiti, a seguire ancora TV Click con Michele Nanati. È tutto dalla TGN, grazie alla cortese attenzione, e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.